questo testa mento perché prima picchi la testa e poi mento o se non devi fare il testamento prima di centro importante non trovate il testa a palle c'è un albero qua di traverso però visto che si passa sotto devono ancora toglierlo no 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 passi sotto nel senso un po' fatica è la seconda volta che viene giù perché vedi una è stata tagliata doveva venire giù il tipo ma poi non ha avuto tempo e andava in giro col busi tirava fuori il seghetto veniva è vero è vero il seghetto testa che tridefero con questo albero questo qua tutto il mio lavoro bene facciamo il california da è il mio amore Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS a presto so che smanetti di più di me a presto so che smanetti di più so che smanetti a presto so che smanetti di più 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 so che smanetti di più